vabbè facciamolo salve a tutti oggi parliamo di un argomento che io credevo di aver già delucidato in tempo fa ne ho parlato in diverse live ne ho parlato in ben 3 4 video ormai ma a quanto pare i vecchi miti sono duri a morire quindi vabbè allora cominciamo dall'inizio il signor metal mike mio caro amico e collega di youtube mi ha inviato degli screenshot di alcuni commenti che gli sono stati rivolti al di sotto di alcuni video ora in teoria questa storia è cominciata già da prima con uno poi due video fatti da un certo canale io con quel canale non più a che fare non voglio averci a che fare e quindi quei video non li ho guardati non credo che guarderò mai anche se credo di poter fare di poter stare qua cinque minuti a fare insinuazioni su quei video di indovinarle tutte in ogni caso il discorso è che al signor metal mike arrivano questi commenti qua citando due fonti che a me lasciano ben perplesso facciamo tre perché recentemente se ne è aggiunto un altro di commento molto interessante il commento in questione va a citare per prima cosa il libro fa il famoso libro death traps che è un libro assolutamente infimo scritto da uno che era un ex meccanico di crei armati che riparava sherman danneggiati o quasi distrutti il suo lavoro è riparare era riparare sherman distrutti lui vedeva solamente sherman distrutti di conseguenza nella sua testa per qualche ragione ha senso il fatto che a tutti gli sherman fanno cagare perché boh perché riparo sherman distrutti figa il tuo lavoro comunque non è questo il principale poi questo è il motivo delle misconcezioni di quel libro che ha quella persona mentre ha scritto quel libro il problema viene fuori quando si va a esaminare il libro nei dettagli solo mi ricordo qual era la paesca 126 qualcosa ma viene fuori che lui non sapeva un cazzo dello sviluppo dello sherman perché va ad accusare patton e eisenhower di non fare abbastanza pressione promettere servizio la m26 pershing che secondo belton cooper usava sospensioni christi primo gli americani non hanno mai usato le sospensioni christi secondo lui va anche ad accusarli di ama dovrebbero utilizzare le ruote intervallate come i carri tedeschi perché funzionano meglio è un cazzo vero gli americani nell'inizio della guerra hanno fatto uscire un bollettino che diceva che le ruote intervallate non c'avano un cazzo dopo averle esaminate su un tiger un tag catturato un anno primo rispetto a quando è stato fatto quel commento in teoria la seconda cosa né eisenhower né patto avevano nulla a che fare con lo sviluppo dei carri armati nulla in quel libro lì viene anche fatta l'insinuazione no che lo sherman sia una trappola mortale perché i carri stiano detto così ora signor benton cooper so che è morto a pace l'anima sua ma scusi di tutti quei caristi che lei ha intervistato no che ti dicono che lo sherman ha trappola mortale quanti di loro non sono morti infatti l'ultimo anno di guerra hanno fatto degli studi su quanto lo sherman fosse in che possibilità c'erano di morirci non lo sherman è venuto fuori che i risultati erano abbastanza incredibili lo sherman aveva in media attraverso tutte le campagne lo 0,6 0,6 membri dell'equipaggio morti per carro distrutto in combattimento il che include anche gente che è morta di fuori del carro per 50 miliardi di motivi e quindi non è ben capibile chi è morto dentro il carro chi fuori dal carro chi per un pezzo di spalling che gli è arrivato in faccia o chi stava scappando gli hanno sparato i tedeschi questo va anche a spiegare come mai c'è così tanto bias di conferma o tanto bias cognitivo nei caristi stessi che vanno a dire che lo sherman ha trappola mortale se tu sopravvivi e vedi il tuo carro prendere fuoco e esplodere nonostante tu ti sia sopravvissuto la forza delle emozioni di quel momento ti fa dire il carro è una trappola mortale ironicamente dimenticandoti che sei ancora vivo questo è il bias di conferma o il bias cognitivo e belton cooper appunto va a intervistare questi caristi va a dire che ah ma i tedeschi non avevano i problemi che vogliono prima di tutto lui non poteva sapere lui non può sapere che problemi avessero i tedeschi al di là del fronte perché lui vicino al fronte lui non era vicino al fronte neanche lontanamente e soprattutto perché mai avrebbe dovuto avere a che fare coi caristi tedeschi essendo lui un meccanico di sherman danneggiati non ha senso comunque chiuso il discorso da trappso è un libro che l'unico l'unico lato positivo che ha quel libro forse 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 è la conoscenza tecnica che ha belton cooper dello sherman in sé e per sé perché quando va a parlare di altri cari armati è chiaro che non sa niente per quanto riguarda lo sherman invece lo conosce bene quindi dal punto di vista meccanico puramente meccanico non ho avuto critiche particolari commento cita un secondo libro altrettanto infimo dal mio punto di vista un libro che io credevo che fosse abbastanza risaputo il fatto che fosse un libro di merda che è il libro chiamato the sherman tank scandal ora quel libro ha anche lui diversi problemi prima di tutto il fatto che è un libro fatto in mala fede scritto da una persona che non ha palesemente idea di che cazzo stia parlando è un libro che va a fare moltissimi attacchi personali sia ai generali che ai vari caristi quindi non è un libro obiettivo nel senso che non va a porsi alcun tipo di risposta cioè non va ad essere alcun tipo di risposta alle domande che pone una delle domande che pone che io ritengo più interessanti è ma come mai gli americani non sono riusciti a prevedere l'arrivo di così tanti panther quanti ne avrebbero incontrati in ormandia questa è una domanda interessante potrebbe essere un punto cioè uno spunto per andare a investigare come mai come mai gli americani hanno fallito da questo punto di vista c'è solo un problema è che lui nel libro non va a elaborare sulla cosa si mette ad attaccarli li chiama idioti li chiama con parole che è meglio non dire su youtube e la cosa una delle cose più stupide e codarde che fa questa persona mentre scrive quando ha scritto il libro è stato attaccare il presidente asenauro per dire che è convenientemente morto quando si doveva mettere in servizio il pershing e andare ad accusare a leslie mcnair di tutte le cazzo di persone che potevi accusare di codardia perché era incompetente perché non è andato non se ne è mai fregato e adesso vi spiego perché mi fa incazzare mi fa inalberare sta cosa qua mi fa incazzare come una bestia perché leslie mcnair era uno che ci teneva sul serio del suo lavoro leslie mcnair quando ha aiutato a sviluppare il concetto di base dello sherman e dopo avevolo approvato per l'analisi da parte dell'esercito quindi da un certo punto di vista è un po' il papino il paparino dello sherman da quel momento in poi da quando lo sherman è stato messo in produzione lui ha cominciato subito a fare da spoletta tra africa stati uniti e poi in italia stati uniti è stato ferito più volte perché lui andava sul fronte a vedere esattamente com'era la situazione al fronte tornava indietro non era così brutta la situazione cioè non arrivava mai indietro e dire ah sì è una trappola mortale muoiono caristi a destra sinistra anche perché vorrei ricordarvi signori miei che durante tutta la seconda guerra mondiale di caristi americani sono morti insomma sono quelli che hanno subito meno perdita di tutti i reparti combattenti dell'eserasto americano è una cosa ridicola se vogliamo se volete avere una trappola mortale prendete in mano a M1 Garand e allora quella sì che è una trappola mortale se vogliamo dare la colpa all'arma e non alle circostanze scusate piccola tangente leslie mcnair è uno che è morto è morto sul fronte ok mettiamola così diciamo le cose come stavano nel 44 durante lo sfondamento della linea Siegfriedo era in prima linea a fare degli assessment a fare delle ricerche insieme ai caristi e ai specialisti su appunto l'efficace in combattimento degli sherman 76 stava facendo la sua ricerca e passano i cacciabombardieri americani a bombardare alcune posizioni della linea Siegfriedo una bomba vagante gli esplode abbastanza vicino da ucciderlo leslie mcnair era tutt'altro che un codarmo tutt'altro che un incompetente tutt'altro che un imbecille come lo fa passare il libro il libro ripeto da quel punto di vista è assolutamente meglio se non continuo perché mi fa assolutamente incazzare la cosa comunque è un libro che non può essere preso su serio anche perché quei pochi dati che porta avanti non li mette mai in contesto non li paragonava mai soprattutto al resto delle forze combattenti americane a tot sherman stati distrutti durante tutta la campagna ok va bene gli equipaggi sopravvissuti non ne parliamo del fatto che in italia il tasso di mortalità era 0,2 per carro e il fatto che il peggio a cui siano mai arrivati gli americani come tasso di mortalità sullo sherman è stato 0,8 e non è stato neanche in normandia dove in teoria era questo inferno pieno di panther caristica morivano a destra manca no signori miei io mi ricordo di aver letto adesso dovrei andarmelo a ricercare ma è un video che sto facendo di stomaco quindi potrei anche sbagliarmi io ricordo uno studio che è stato fatto dal giusto americano verso fine guerra riguardante quanto efficace fosse lo sherman nei confronti diretti del panther perché appunto uno dei grandi problemi si può dire che i caristi americani riportavano ai comandanti era il fatto che ah ma i panther facciamo fatica a distruggere i panther sono problematici perdiamo cari e preoccupa di panther hanno fatto una ricerca al cavallo tra il 44 e il 45 questa ricerca andava ad esaminare tutti gli ingaggi della terza e della quarta divisione ancora fatta se non ricordo male comunque la metterò qua durante l'editing andava ad esaminare appunto gli scontri tra panther e sherman durante quel periodo è assolutamente una cosa spassosa leggere del fatto che gli sherman hanno pulito il pavimento con i signorini panther li hanno asfaltati e sotterrati diventando essendo stimati dallo stesso rapporto esaminando i vari ingaggi in se in cui hanno vinto in cui hanno perso giudicando lo sherman in media tra tutti i contesti 3,6 volte più efficace del panther il rapporto raddoppiava se lo sherman era in difesa 7 volte più efficace del panther in difesa 3,6 volte più efficace in attacco di che cazzo stiamo parlando quel libro quel libro del sherman tank scandal è una marea di puttanate e mi fermo qui chiedo scusa per questo sfogo personale ma doveva dovevo farlo perché sono molto stufo di leggere che nel 2000 di sapere che nel 2024 c'è ancora gente che crea queste puttanate ciao per dimenticarmi sta cosa qua è arrivato un altro commento sotto un video di mike che parlava di un libro di hustings operazione overworld allora prima di tutto è un libro del 1984 è un libro che non è per niente aggiornato in tempi moderni tra l'altro all'epoca a partire dagli anni 80 circa era in piena voga il periodo verabuismo ok che è cominciato agli anni 80 ed è finito diciamo agli inizi del 2000 quando hanno cominciato a documentarsi su effettivamente come gli americani combatterono durante la seconda guerra mondiale impressionante soprattutto tutti i libri che sono sono stati scritti per esempio questo qui su lo sherman che vanno un po a riscattarlo ma nel ma questo commento qua va a parlare del fatto che astings scrisse appunto il fatto che ama dovevo censurarli perché non erano d'accordo perché avevano problemi e allora i comandanti americani e inglesi andavano a limitare la libertà di parola dei carristi allora io vorrei ricordare i signori beduini che credono ancora queste cose qua che il nel deserto americano anche il più piccolo dei carristi poteva scrivere una lettera indirizzata all'alto comando e far sentire la propria opinione è successo più volte durante la guerra che i carristi si lamentassero in massa di qualcosa indovinate cosa faceva l'esercito americano faceva un'indagine esattamente come è successo con il discorso dei boccaporti perché loro vedevano i carri armati inglesi che avevano un boccaporto per il servente a inizio guerra e dicevano ah cazzo sarebbe bello avercelo anche sui nostri sherman e lo fecero e li montarono riuscirono in sei mesi tra l'altro un po' ridicolo ma in sei mesi misero in servizio di sherman coi boccaporti coi boccaporti per i serventi dopodiché è stata altra lamentare di che i caristi guardavano il discorso dei cingoli si lamentavano che in alcune condizioni avevano problemi e allora ecco che uscirono i cosiddetti duckbills le estensioni laterali dei cingoli sia nel progetto e poi viene lanciato il progetto easy 9 e il progetto easy 8 il progetto easy 9 è quello che montava i duckbills da entrambi i lati del cingolo mentre il progetto easy 8 è quello che poi voleva montare i cingoli larghi da 24 pollici appunto per questa cosa qua io faccio veramente è impossibile credere alle parole del signor hustings e tra l'altro è interessante vedere il fatto che nei suoi commenti quando parla che ah lo sherman prendeva fuoco perché i caristi dicevano che aveva questa tendenza a prendere fuoco lo sherman alla fine dei conti quando fecero le indagini durante la guerra perché dal 43 in poi ci fu una serie di alamentele che uscirono dall'esercito americano riguardante la vulnerabilità dello sherman e così venne creato l'operational research group che era un gruppo di meccanici ed esperti ingegneri quella roba lì che andavano sul campo di battaglia ad osservare in che maniera venivano distrutti i carri armati americani e quelli tedeschi venne fuori che la maggior parte degli sherman distrutti non prendeva neanche fuoco venivano colpiti messi fuori uso abbandonati la percentuale di sherman che prendeva fuoco a fine guerra era del circa circa del 15 per dopo l'introduzione del wet storage la percentuale in cui gli sherman potevano fuoco era circa circa del 9 per cento quindi quasi di mezzata e allora sempre nel nel libro di Hastings c'è stato un comandante inglese che scrisse un libro chiamato 18th platoon chiamato il comandante inglese era sydney jar in cui praticamente andava a criticare Hastings e tutti quelli che scrivevano questi libri in cui andavano a glorificare i cazzutissimi tedeschi che facevano il culo a tutti a destra a sinistra dicendo che praticamente voi che criticate tanto i tedeschi dite che noi facevamo schifo mentre loro avevano la meglio roba voi non eravate al fronte a vedere come operavamo noi ed effettivamente i dati vanno a supporto di queste dell'opinione del signor jerry del signor sydney jerry una delle cose di cui parlava anche lui in questo commento qua è il fatto che il fatto che gli inglesi e soprattutto il signor mongomeri non è che silenziassero le critiche a sinistra a destra loro andavano veramente a cercare di capire dove stava il problema dove stava la sede delle critiche uno dei suoi commenti principali è che soprattutto nella compagnia di quando vennero integrati al quando il somerset infante venne integrato a un gruppo di carri armati i carristi inglesi erano tutt'altro che spaventati del delle minacce delle delle potenziali minacce dei dei carri tedeschi e dei cannonetti caro anzi erano più spaventati della fanteria infatti per come operavano dice lui stesso andavano sempre in giro con colpo esplosivo caricato in canna e uno sherman firefly in genere prendeva posto al come secondo mezzo della colonna ripeto di che cazzo stiamo parlando ancora che la gente crede a tutti questi miti sullo sherman ragazzi io sono sono arrivato veramente a un limite che non so di raggiungere io non ho tempo fisico di fare video mi tocca registrarli così comunque concludiamo il video con dei saluti dal signor metalmiker che mi ha fatto scoprire questo pozzo di questo pozzo di disperazione e tristezza che è il mondo dei verabus io credevo di esserlo dimenticato ma quanto pare saranno sempre qui a a cagarmi nelle orecchie a cagarmi il cazzo allo stesso tempo volgare ragazzi questo non è un asilo nido io vi saluto e ci vediamo perché sto finendo il video sulla m50 ontos finalmente sto avendo un po di tempo in più per lavorarci signori miei buona buon sabato e buona giornata a tutti grazie 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 a tutti